Cari amici ci siamo, i fari sono puntati su Luciano Moto, il più grande showroom d'Europa, benvenuti in casa di Indian Motorcycle, in compagnia soprattutto del volto televisivo dell'azienda. Ciao Atos. Ciao Steffi, bentrovati a tutti. Allora, io mi sono accomodata, la Scout l'aspettavo in questo colore. Cari ragazzi, si sta benissimo in sella le Indian Motorcycle, provatele. Tra l'altro questo è il momento ideale per approcciare questo marchio, grazie all'operazione 50 esclusiva Luciano Moto. Su Indian, mai promesso, ancora più forte. Sì Steffi, l'operazione 50%, la nostra ormai storica promozione la più importante, su Indian davvero raddoppia i vantaggi. Qua da noi potete trovare tutta la gamma 2018 con i nuovissimi colori, questa sulla quale sei seduta è la Scout Icon, per cui con la colorazione commemorativa dei veicoli storici di Indian. Come dicevo appunto, con l'operazione 50% sarete liberi di acquistare subito la moto con due anni di manutenzione scontata del 50%. Entro il termine poi dei due anni potrete decidere semplicemente di restituircela, senza essere vincolati comunque ad acquistare niente, ma nel caso di acquisto di nuova Indian vi rimborseremo la metà di quello che avete speso. Bene, non c'è trucco, non c'è inganno, avete seguito le parole di Atos, è molto semplice, è facilmente comprensibile ed è esclusiva Luciano Moto, anche se abbastanza scopiazzata, mi permetto di dire. Sul brand non voglio aggiungere altro, perché ormai ce l'hai fatto amare, ci ha conquistato India Motorcycle, vedete l'esposizione, il padiglione dedicato, c'è tutta la produzione, la stagione è arrivata e il momento è quello giusto, Atos. Sì, la stagione è caldissima, stiamo ormai già da inizio anno consegnando tantissime scout e Indian comunque in generale, iniziano davvero ora a farsi notare per le strade e non solo, c'è proprio anche un bel boom a livello mediatico, c'è tantissimo interesse. E in Conti Spicci, Steffi, se basta fare due calcoli veloci e praticamente tenere la vostra Indian per due anni vi costa l'importo pari all'IVA, che è quello che ormai è risaputo, si spende praticamente quando immatricoliamo il mezzo nuovo, così potete utilizzarla due anni. Bene, ci ha fatto i conti in tasca Atos per dirla immediatamente in maniera comprensibile ancora di più. Questo è il vostro punto di riferimento, la porta d'ingresso principale per entrare nel mondo Indian Motorcycle, ma non solo. Steffi, parliamo ormai sempre solo di moto, ma Luciano Moto non è solamente moto, da sempre abbiamo un fornitissimo reparto auto, quindi con tantissimi mezzi esclusivi, tutti quanti in ottime condizioni, come questo Hammer in versione Luxury, per cui full full di tutto, con pochissimi chilometri percorsi con un solo proprietario. Abbiamo anche un Range Rover Evoque, anche questo unico proprietario, con pochissimi chilometri full optional, un altro Fremont in versione Lange, 170 cavalli a gasolio, anche qua tutti quanti gli accessori presenti a catalogo, un Mercedes classe C, anche questo full optional, vettura da oltre 60.000 euro di listino, con tutta la manutenzione certificata in Mercedes. Abbiamo poi anche un'altra Opel Corsa OPC, per i ragazzi più sportivi, con 180 cavalli e solamente 23.000 chilometri, infatti con un solo proprietario. Poi ancora tanti fuoristrada, tra cui una bellissima Dodge 5.7 V8, anche lei in ottime condizioni con l'impianto GPL, una Audi A4 Avant, S-Line, bellissima anche questa full optional. Veniteci a trovare perché anche su tutte le nostre automobili possiamo permutare la vostra moto, il vostro camper e riconoscervi la differenza se è di valore superiore e comunque su per valutare il vostro usato se è in ottime condizioni. Fornitissimo poi anche il nostro reparto off-road e mezzi particolari, per cui abbiamo diversi veicoli guidabili anche con la patente A a 16 anni o B a 18 con cui potete davvero divertirvi in fuoristrada come un bellissimo Bug Racer full optional o un altro utility con il cassone e il 4x4 con le ridotte. Allora io inseguo Atos attraverso il mondo Luciano Moto, del resto ve l'ho detto è il più grande showroom d'Europa, arriviamo direttamente in Kawasaki, qui si parla di grandi successi. Sì, grandissimi successi, Steffi Z900, caffè o l'RS, che è una moto davvero godibilissima proprio per l'elasticità di tiro che ha il motore, che deriva proprio dalla Z900 naked, ma Kawasaki ha lavorato davvero tantissimo per renderla proprio molto più piena come erogazione fin dai bassi regimi. Anche il sound davvero è particolarissimo, richiama proprio le moto degli anni 70, questo è un brevetto Kawasaki, venite davvero a provarle perché meritano attenzione, assolutamente. Io ti ho lasciato il microfono perché pendiamo letteralmente dalle labbra di quest'uomo, che ci fa un po' così godere anche semplicemente sentendo parlare, il sound delle moto ci piace, addirittura possiamo parlare di super potenziate, super charged. Sì, super charged, abbiamo tutta la gamma, quindi sia dalla sportivissima monoposto H2 che l'H2SX o SE, quindi la full optional, anche queste potete venire a provarle gratuitamente senza impegno, e anche qua il sound è non solo, merita davvero parecchio. Sì, assolutamente sono esageratissime. Però devi perdonare, ci hai promesso queste cose, allora per chi vuole entrare nel mondo Kawasaki ci devi fare qualche offerta commerciale, chi vuole approcciare questo mondo grazie all'operazione 50. Sì, sempre la nostra 50%, Steffi il tempo stringe, per cui due conti spicci davvero, sulla moto entry level come il Versys 650, potete anticipare il 30% che è circa 1200 euro, per due anni tutti i tagliandi scontati del 50%, cambi gomme scontati del 50%, se tra due anni ne scegliete un'altra, un'altra Kawasaki, il 30% che ci avete anticipato ve lo restituiamo completamente per l'acquisto proprio dell'altra moto. Bene, noi ci siamo aiutati con le grafiche, ve l'ho detto, grande trasparenza, oltre alla convenienza, l'azienda è fatta così, Atos è fatto così, venite a metterlo alla prova, a casa al grasso tutti i giorni, tranne mercoledì e domenica, e sul sito Atos. Sì, e tutto quanto sul sito, che è lucianomoto.com, aggiornato in tempo reale, quindi vedete tutti gli usati che abbiamo e quando vengono venduti, non li vedete più. Siamo sempre sulla statale che va da Torino verso Saluzzo, aperti tutti i giorni, tranne mercoledì e domenica, dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 19. Scrivetemi il mio indirizzo mail è moto-lucianomoto.com Che dire, Atos è proprio così, in tv e anche di persona. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti, ciao a Stefano. Cari amici, appuntamento a Luciano Moto.